Un regalo importante per la comunità di Biadene, un restauro significativo, non è stato ancora completato tutto il restauro alla chiesa, ma sicuramente si vedono gli effetti che sono più che positivi. Va detto grazie davvero al coraggio, alla passione di Don Davide e della sua comunità per questo recupero che deve davvero continuare. Avremo bisogno di lavorare ancora per ricollocare anche le opere d'arte che in questa chiesa trovavano il posto e davvero dare il giusto valore ad una chiesa costruita agli inizi del Settecento da Alvise Pisani, futuro Doge, di Venezia per una comunità che in quel momento lì davvero ha trovato il suo senso e la sua identità in questo tempio che oggi vediamo ancora più splendente e recuperato. Un investimento di 50 mila euro, un restauro che è stato fatto su che tipo di manufatto? Allora abbiamo restaurato il dossale dell'altare che è un dossale in stucco, stiamo anche lavorando con un po' di ricerca d'archivio e con qualche confronto stilistico per riuscire anche ad attribuirlo. Si tratta sicuramente di una famiglia del canton ticino di stuccatori che lavora nella provincia di Treviso e che ha lasciato varie testimonianze della sua opera. Quindi l'invito alla popolazione di Biadani a venire a conoscere la chiesa. Conoscere e continuare quest'opera con generosità e passione quale ha dimostrato in questo primo stralcio di intervento.